Come vi siamo facciati, Black Sports Legends! Allora, se vi tremano le gambe, come tremano a me, vuol dire che avete messo le gambe su questa cosa. E oggi, in questo weekend, dovete usarle. Signori, nelle precedenti edizioni ne avete dovuto ingoiare di qualcuno. E' ora di finirla. Che ne pensate? Io vi ottergerò, vi darò la carica, ma voi evitate di chiamarvi. Quando parlo, a 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 parlo. Se l'avete capito, vi sono io. Ok? L'azione Rock Avalanche sta iniziando. Tutta la regione, come sempre, sarete voi ranger a farci strada e ristare la nostra bandiera sul territorio nemico. Alcune di Stato, dunque, è il capo di Stato. Il Voscaf è disposto che in coordinale prestattivi salirete il Voscaf. Baccarat Marquez, il covo di Aydiz e delle sue temibili milizie, è sempre più attivo. Questo avamposto farà il nostro punto di partenza per un'avanzata strategica. La Delta Force lancerà gli attacchi sui target in tutta la regione, mentre i ranger si prepareranno a isolare il loro povo. Baccarat Marquez. Se siete venuti a dormire, dimenticatelo. Se siete venuti per una gita, dimenticatelo. Se siete venuti per spaccare teste, questo è il posto giusto. Non ho capito. Buon divertimento a tutti. Lascio il comando a darvi le ultime informazioni. Ciao.